messaggio di saluto del ministro delle imprese del made in italy adolfo urso al team tank house of change remind nuove concezioni di immobiliare allargato e di cultura dell'abitare per l'italia promosso da paolo crisafi marco de vincenzi e maurizio jennaco gentilissimo professor paolo crisafi presidente remind saluto tutti i partecipanti al vostro incontro house of change in cui insieme affronterete numerosi temi tutti legati all'abitare in senso lato il vostro settore costituisce il 30 per cento del pillo italiano e rappresenta un volano eccezionale per la crescita infatti se si considerano i settori attivati dall'immobiliare o in esso ricompresi si giunge alla conclusione che la gran parte dell'economia italiana poggia le sue basi su tutto ciò che ruota attorno alla progettazione produzione gestione manutenzione e rigenerazione di immobili oltre che di infrastrutture e in generale sulle attività di investimento valorizzazione gestione e messe in sicurezza dei territori immobiliare allargato e composto dalle migliori forze produttive assicurative previdenziali sociali sanitaria della sicurezza economiche finanziarie sportive turistiche culturali infrastrutturali e immobiliari della nazione perché pervade e attraversa tante attività e tanti settori legati tra loro Remain rappresenta un'enorme filiera che oggi si snoda da monte a valle attorno alla valorizzazione delle innovazioni tecniche che sono in grado di innalzare il livello di sostenibilità sempre più ricercata quando si costruisce si ristruttura o si abita uno spazio credo che il nostro compito comune sia rimettere al centro la persona le sue esigenze e il suo benessere così da portare avanti un progetto culturale in grado di creare un sistema valoriale condiviso in cui poter mettere a frutto energie e risorse in modo proficuo per costruire l'italia di domani vi faccio i migliori auguri di buon lavoro